Ho la fortuna di fare tutta la preparazione con Francis Ngannou, perché lui farà con Anthony Joshua. Io sto preparando il tredicesimo match a New York il 16 febbraio. Ci ho fatto le prime sessioni che lui doveva preparare il match con Fiori. Gli serviva appunto un pugile tecnico alto. Fa veramente tanto male, pericolosissimo. Non è un pugile, anche se comunque, venendo allo sport come l'MMA, ecco, il combattimento lo sai fare. Nei pesi massimi conta anche molto la forza dei colpi, la potenza che lui ce l'ha. Io essendo veloce riesco a lavorare meglio su combinazioni, su spostamenti, soprattutto su muovere le gambe. Però lui è molto potente. Siamo opposti. Mi ricordo le prime sessioni, tira quel gancio pericolosissimo, che poi tra l'altro è quello che ha messo Giuffiuri. E ogni tanto mi ci sfiorava e quindi ho capito che non dovevo prendere assolutamente quei ganci. Questa volta invece la prima sessione mi ha tirato un bel colpo al fegato, quindi è pericoloso da tutti i lati. E adesso a Parigi la cosa che mi ha lasciato a bocca aperta è che lui è arrivato per iniziare la preparazione, ma stava già in forma. Sarà sicuramente il suo DNA, la sua prevenenza, che lo rende diverso dagli altri. In palestra viene da solo, non si perde troppo in chiacchiere. Perché sta a lui da solo e ci siamo allenati in una palestra del ghetto di Parigi, proprio in periferia. Una palestraccia. Quindi secondo me sta proprio nel giusto mindset.